La rivoluzione scientifica del 600. In questo video parleremo di la rivoluzione copernicana. Con Galileo e Newton si afferma la scienza moderna, l'arte, la musica e il teatro nel 600. Cominciamo con la rivoluzione copernicana. La nascita della scienza moderna risale al 600, quando lo studio della natura iniziò a diventare una scienza autonoma e con un suo metodo di ricerca basato sull'esperienza. Nel 1543 Nicolo Copernico presentò una nuova teoria astronomica, secondo la quale la Terra gira in centro al Sole e non viceversa, come si era sempre creduto. Ecco qui Copernico con la sua visione dell'universo, al centro del quale c'è il Sole e non più la Terra. Con Galileo e Newton si afferma la scienza moderna. La scienza moderna si basa sul metodo scientifico di ricerca. Lo scienziato deve cioè osservare prima i fenomeni, pensare ad un'ipotesi, verificare l'ipotesi più volte con esperimenti e solo allora potrà dire di aver scoperto una legge. Ecco rappresentato in queste sei immagini le fasi del metodo scientifico o sperimentale. Lo scienziato deve osservare il fenomeno 1, formulare domande 2, formulare ipotesi 3, fare gli esperimenti 4, registrare e realizzare i dati 5 e infine trarre una conclusione. Galileo perfezionò il cannocchiale e fece osservazioni astronomiche che misero in discussione la teoria geocentrica in favore di quella egliocentrica o copernicana. Newton scoprì il principio della gravitazione universale, cioè quello che afferma che i corpi si attraggono gli uni con gli altri in maniera proporzionale al loro peso. Leggenda vuole che Newton abbia avuto l'intuizione decisiva per arrivare a questa teoria mentre sedeva sotto un albero a un melo e una mela gli caduta in testa. In Europa nacquerò le prime accademie e furono pubblicate le prime riviste scientifiche. Questa è un'immagine della Royal Academy di Londra, una delle più famose accademie nate proprio in questi anni. L'arte, la musica, il teatro nel 600. Nel 600 si affermò un nuovo stile artistico, il barocco caratterizzato da forme complesse e sorprendenti. Chiese e città si ornarono di decorazioni e monumenti e in particolar modo Roma divenne il centro della nuova arte. Proprio a Roma noi vediamo la Fontana dei Quattro Fiumi, fatta dal Bernini, un esempio di barocco. Il 600 fu anche il secolo del teatro. In Italia si affermò la commedia dell'arte, caratterizzata l'improvvisazione degli attori e dalle maschere tipiche, come quelle che vediamo in questa immagine. La musica italiana ed in particolar modo l'opera lirica si diffusero in tutta Europa. I principali autori sono stati Monteverdi e Vivaldi. Concludiamo con la mappa concettuale. La rivoluzione scientifica ha avuto come massimi esponenti Copernico, che ha formulato la teoria eliocentrica o copernicana, Galileo Galilei, il padre del metodo scientifico sperimentale, e Isaac Newton, che ha formulato la teoria della gravitazione universale.